Continueremo a sognare e a vivere questo sogno. Le parole del capitano del Galles, Garrett Bale, riassumono la gioia di un'intera nazione che arriva per la prima volta a una semifinale e vuole continuare l'avventura di Euro 2016. Scena di follia nella fanzone di Cardiff, mentre a Lilla i tifosi invadono le strade. Incredibile! Non vediamo l'ora di arrivare in finale. Fantastico! E ora il Portogallo! Tornano a casa i diavoli rossi. Il belgio, che alla vigilia prometteva di essere la rivelazione del torneo, non ha mai convinto veramente e ha tirato i remi in barca troppo presto, dopo il momentaneo vantaggio. Sono molto deluso. Avevamo una squadra per andare molto lontano e abbiamo rovinato tutto. Dopo il primo gol si sono illusi e sono arretrati e dopo... Noi, noi li ho credo tutti e poi ci sono arretrati e poi... E poi voilà qua! Dommagge! Grazie a tutti.